Si chiama Simone Gapelli, è una madre di soli 34 anni d'età, che non ha niente da invidiare alle persone più giovani di lei. Pensate che ha ben 5 figli, un corpo statuaio. La donna viene da Halifax, North Yorkshire, ha ben 5 bambini, tutti d'età inferiore a 9 anni, però è riuscita ad affrontare le gravidanze e i parti nella migliore maniera, mantenendo un fisico statuario, un fisico invidiabile. Pensate che la donna è amante del fitness, tutte le mattine si sveglia alle 5 per andare in palestra, poi torna alla sua abitazione, fa la colazione ai figli, sistema la casa utilizzando gli stessi bimbi come pesi per tenersi in forma. Durante la mia prima gravidanza ho mangiato troppo e ho messo su circa 19 kg di peso. Dopo il parto ho cominciato a fare fitness e in 10 mesi sono tornato in forma. Simone continua ad allenarsi e è felice di essere una mamma. L'obiettivo è quello di far capire a tutte le donne che avere un figlio non significa necessariamente rinunciare alla tua forma abitazione. Grazie che avete dentro di video termina qua.